La figura del farmacista si sta evolvendo, diventa sempre più consulente e cerca di offrire ai consumatori un servizio completo e prodotti orientati al massimo benessere. Cosmo Pharma 2017 riflette su questi temi di cambiamento del settore farmaceutico, puntando a soluzioni bio e formulazioni naturali. Siamo a Bologna, a Cosmo Pharma e in occasione di questa fiera incontriamo di nuovo un noto marchio che è di Luca Milano. L'avevamo già incontrato a Cosmo Prof Bologna e siamo qui perché oltre alla loro distribuzione nei negozi di Milano e provincia e anche in un noto salone di bellezza di via Boccaccio, Di Luca Milano ha aperto un canale di distribuzione nelle farmacie e sono curiosa di sapere in che modo e di che cosa si tratta. Sono qui con Emanuela Facchetti che ce lo può raccontare. I prodotti e gli accessori di Di Luca Milano sono anche distribuiti in alcune farmacie selezionate del territorio. Da quasi un anno abbiamo preso questa decisione di entrare in questo canale di rivendita farmaceutica. Abbiamo cercato delle farmacie che avessero un'attenzione particolare nell'inserimento dei brand, avendo con sé un reparto di dermocosmesi e che potessero comprendere al meglio il nostro concetto di bellezza che parte dalla salute di capelli, viso e corpo. Le farmacie oggi ci stanno dando dei grandi risultati, questo perché è cambiato il concetto di bellezza ad oggi. Le clienti sono molto più attente, richiedono una certa qualità e soprattutto una certa cura e salute per quanto riguarda capelli, viso e corpo. Abbiamo deciso di entrare nelle farmacie, questo perché il farmacista ha una competenza e una preparazione tale che possa esprimere al meglio quello che siamo realmente noi. Ovviamente siamo partiti dal nostro territorio, quale è la Lombardia, ma il nostro obiettivo per la quale siamo qui anche oggi è proprio quello di ampliare, rafforzare questo canale di distribuzione nelle farmacie. In questa edizione di Cosmo Pharma avete trovato qualcosa di interessante per il vostro obiettivo? Assolutamente sì, tra l'altro incontri anche molto piacevoli perché abbiamo avuto l'occasione di incontrare dei farmacisti, nostri collaboratori, quindi assolutamente sì e molto interesse, un bilancio positivo. Sì, benissimo. Grazie Emanuela Facchetti per Di Luca Milano, qui da Cosmo Pharma. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.